Mentre i numeri del contagio crescono anche in Irpini, a ieri si sono sfierati eventi positivi sul fronte vaccini, al Palo del Mauro risposta tiepida per l'open day moderna che si è incrociato con i richiami AstraZeneca, scarsa partecipazione dei ragazzi. Nel pomeriggio in serata invece il camper della salute è tornato a far tappa nel cuore della Movida, via dei concili, per immunizzare i più giovani. Qui il riscontro è stato decisamente superiore. Tanta gente in fila, ragazzi in qualche caso accompagnati dai genitori che hanno sfidato il caldo a partire dalle 16 pur di essere sottoposti al siero. Il caldo è un po' un ostacolo però si fa lo stesso. È molto importante e ringraziamo anche la regione, i centri medici che già hanno disponibilità e ci mettono a disposizione questi camper, i palazzetti affinché tutti possiamo essere vaccinati al più presto. Comunque noi siamo giovani quindi per entrare in un bar, in un ristorante serve il vaccino. Personale dell'Asla che distribuiva i numerini e polizie e carabinieri che controllavano affinché le operazioni procedessero regolarmente e senza assembramenti. Vaccinate, 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 certo. Dobbiamo essere tranquilli, no? I ragazzi stanno qui. Sembra che forse è giusto vaccinarsi. Intanto si sono registrate pochissime presenze in Piazza Libertà per la manifestazione No Green Pass annunciata nei giorni scorsi.